Enrico Lombardo, buongiorno. Buongiorno Giancarlo. Io ero abituato al colore rosso quando intervistavo lei e improvvisamente mi trovo giallo e sonfi. Mi sa che è successo qualcosa di cui lei mi dovrà dare spiegazione? Sì, in effetti sì, nel senso che ci troviamo nella sede di Sonfi Italia perché qui in Sonfi Italia si è tenuta, si è conclusa pochi minuti fa, la riunione di metà anno della nostra rete di vendita delle agenzie e si è tenuta qui in Sonfi Italia perché abbiamo lanciato con le agenzie ieri e oggi questo progetto che è nato insieme al gruppo che noi chiamiamo Multibrand. È un progetto che prevede il fatto che la rete di vendita di BFT si faccia carico dal primo di gennaio dell'anno prossimo della distribuzione dei prodotti a brand Sonfi nel canale del grossista di materiale elettrico. E qual è stata la reazione dei vostri agenti che di conseguenza sono stati i primi al mondo a saperlo? Sì, sono stati i primi al mondo a saperlo e è stata una reazione decisamente entusiastica nel senso che questo progetto mira a sfruttare evidentemente le sinergie del gruppo e quindi a rendere disponibile al canale dei grossisti, che è un canale che noi credo presidiamo in maniera molto corretta, un'offerta di prodotto che contempli il prodotto BFT inserito in un mondo Sonfi che parte dall'automazione per le tapparelle ma che arriva alla gestione domotica wireless per tutti della casa per cui parla di smart home e massimizza il nostro concetto di interconnettività nel momento in cui abbiamo sempre detto che i prodotti BFT sono interconnettibili e quindi saranno evidentemente interconnettibili anche con il mondo Sonfi. Quindi c'era una complementarietà latente che ora è diventata patente? Sì, c'era una buona complementarietà che adesso con l'organizzazione che stiamo mettendo in piedi riuscirà ad andare sul mercato, darà evidentemente a ciascun brand la dignità che i due brand hanno ma che si rafforzerà a fronte del fatto che insieme potremmo vantare un'offerta di prodotto che direi nessun'altra azienda sul mercato potrà vantare. Di conseguenza mi pare di capire che visitando i magazzini dei grossisti di materiale elettrico oltre al già conosciuto marchio BFT ora troveremo anche il brand Softie. E questa è la lettura corretta? Esattamente questa nel senso che la nostra rete vendita girerà con due cataloghi in borsa quello rosso e quello giallo e porterà al canale dei grossisti e quindi agli installatori e quindi agli utenti finali un'offerta di prodotto decisamente ampia in un ambito, quello della smart home, che è l'ambito più attuale e ricco di crescita. Visto che stiamo dando una buona novella ai grossisti, speriamo che loro lo ritengano anche tale ma possiamo anche dire un pochino che cosa, quali prodotti si ritroveranno in magazzino che cosa potranno proporre ai loro clienti? Beh, proporranno tutti i prodotti a catalogo Sonfi che evidentemente completano la loro offerta di prodotto per cui dai motori per tapparella a tutti i prodotti per la gestione della casa connessa per cui motori per tapparelle, gli apri persiane, cioè i balconi ad anta, le serrature connesse, i termostati connessi tutti i prodotti che consentono la gestione delle luci e anche dei prodotti molto molto semplici per la sicurezza la cosa interessante è che nell'offerta Sonfi esistono dei dispositivi, uno si chiama ConnectSoon, l'altro si chiama Taoma che riescono a integrare in maniera molto molto semplice, molto molto facile, molto molto intuitiva tutti questi prodotti per rendere la casa intelligente sono prodotti pensati attorno alle persone, sono prodotti di semplicissimo utilizzo sono prodotti tutti wireless e sono prodotti che sono aperti al mondo esterno per cui riescono a dialogare con Google Home o con Alexia e quindi consentiranno anche la gestione vocale della propria abitazione Con tutto quello che si rivedeva di domotico nei magazzini dei grossisti elettrici che non ci fosse questo, praticamente è una colpa Era una colpa Ci piace pensare di sì, dall'altra parte ecco, tengo a sottolineare che è una domotica molto molto facile nel senso che non necessita cablaggi, non necessita opere murarie e quindi è molto molto accessibile Accessibile a tutti è uno degli assi strategici di sviluppo di gruppo per cui in maniera molto molto semplice si potrà configurare la propria casa in maniera molto semplice, con modalità integrabile e scalabile si potrà configurare la propria casa in maniera domotica La cosa interessante è che qui va il valore della proposta multibrand quindi la proposta BFT e Sonfi Ecco, BFT come ho detto, essendo interconnettibile sarà evidentemente interconnessa a questo universo Sonfi che consentirà di rendere la casa molto smart e quindi molto intelligente Ed ora vi presento un personaggio nuovo per gli schermi di mercato totale Roberto Mezzalira, direttore generale di Sonfi Italia Buongiorno Roberto, buongiorno a lei Allora, abbiamo appena saputo da Enrico Lombardo di questa grossa novità e abbiamo saputo anche che cosa ne pensano loro in BFT di tutto questo invece ora lo chiedo a lei che cosa succederà per voi ma anche che cosa succederà nei magazzini dei nostri amici distributori elettrici Allora, innanzitutto per noi è una grande opportunità per entrare in un canale come quello elettrico che storicamente non abbiamo mai frequentato in Italia Grazie e sfruttando l'espertise di BFT i 40 anni di vita che loro hanno condotto nel guidare questo canale e la loro penetrazione ci permette oggi di arrivare con le nostre soluzioni di smart room e di automazione per la tenda e le tapparelle direttamente a un canale fondamentale per il mercato italiano Oggi il nostro ruolo è un ruolo di supporto di BFT quindi soprattutto in attività formativa per poter formare tutte le persone che poi questi prodotti andranno a proporre e installare un'attività di supporto di assistenza tecnica viste le competenze che noi abbiamo sui nostri prodotti e anche un polo logistico che possa permettere quindi una capillarità nella distribuzione dei prodotti sul mercato italiano Quindi il nostro ruolo in questa fase è fondamentalmente di supporto a quello che poi la rete vendita di BFT deve fare direttamente in questo canale Più globalmente per il gruppo nella sua complessità è una straordinaria opportunità per coprire tutti i canali distributivi Sonfi già oggi è presente da oltre 40 anni sul mercato in Italia su tutti i vari canali professionali tradizionali ma non, come lei ben sa, non sul canale elettrico Questa sinergia con i colleghi di BFT ci dà l'opportunità di coprire totalmente tutti i canali Questo perché? Perché la nostra missione principale è quella di realizzare una home automation di massa quindi la più diffusa e la più popolare possibile e per fare questo compiutamente abbiamo bisogno che tutti i canali siano attivi in questo tipo di attività Affrontare direttamente il canale elettrico sarebbe stato impossibile per noi perché non abbiamo tutta questa conoscenza ed esperienza grazie alla sinergia di BFT riusciamo a fare anche questa operazione Senza Roberto, poi lo chiederò anche a Enrico Lombardo ma che cosa vi aspettate voi da questa operazione? Allora, il primo obiettivo intanto è quello di portare i prodotti in un canale che di base di queste cose ne vive e ne fa è anche l'interlocutore primo per il consumatore finale quando uno pensa a questo tipo di soluzioni il primo pensiero che viene è ovviamente un elettricista e quindi è un dovere, prima ancora, degli sviluppi di business per Sonfi essere presenti in questo tipo di attività Infatti in molti altri mercati, come la Francia, la Germania Sonfi attiva nel canale elettrico da decenni In Italia, per le nostre scelte, fino ad oggi non avevamo mai intrapreso questo tipo di via Quindi ci aspettiamo una moltiplicazione di attori che conoscono e che utilizzano i nostri prodotti la possibilità di essere ancora più efficace in termini di creazione di questo mercato di massa e federare questi grossisti in modo tale che siano poi davvero i portatori verso l'installatore delle nostre soluzioni in maniera completa Per far questo ci vuole soprattutto prima la formazione dei grossisti e dei banconisti la presenza nei punti vendita con delle attività finalizzate a far conoscere e far sperimentare i nostri prodotti fino a poi ad assistere, in caso di necessità, gli installatori in fase di posa con il nostro supporto tecnico Per concludere, Enrico Lombardo Che cosa vi aspettate da questa operazione? Ci aspettiamo un grande successo perché riteniamo che il progetto sia assolutamente sostenibile e molto molto coerente con l'identità dei due brand e ci aspettiamo che la nostra rete vendita sia all'altezza del compito che abbiamo dato loro Io credo che il tema sia quanto mai interessante nel senso che l'offerta, la richiesta di prodotti smart, di prodotti connessi è evidentemente in crescita credo che riusciremo a dare una grande opportunità ai nostri clienti per riuscire a concretizzare e a soddisfare questa richiesta in maniera molto sinergica per cui mi aspetto grandi risultati Grazie a tutti